Io vi invito a chiudere i vostri occhi e prendervi un momento per integrare questa informazione che c'è un intero entourage dall'altro lato del velo che conosce esattamente quello che sta accadendo sulla Terra. C'è come un riflettore che è puntato su di voi, se volete dire così, che vi sta dando amore e supporto per tutto quello che state facendo, proprio adesso. Sia che sia il vostro percorso di autoguarigione o che sia il vostro percorso di essere in servizio ad aiutare la guarigione degli altri, questo viene visto e riconosciuto dall'altro lato del velo. Questo supporto è lì per voi, perché quello che state facendo è importante. La vostra vita è importante in modi che non potete nemmeno concepire. E ogni volta che voi avete una consapevolezza, un'epifania, cambia la stessa struttura, il tessuto dell'universo. E questo ci dice di quanto siate magnifici e di quanto siate importanti e di quanto siate amati oltre ogni misura. E adesso permettiamo uno spazio per ascoltare il Maestro Magnetico che ci ha dato questa frase, voi siete immensamente amati. Vi saluto, miei cari. Io sono Kryon, del Servizio Magnetico. E quindi sembra che questo programma per questo mercoledì di guarigione sia tutto riguardo l'aiuto proveniente dall'altra parte del velo. Questo potrà sembrare un ripasso, ma non lo ascolterete mai abbastanza. L'altra parte del velo è un'energia premurosa e non è quello che vi è stato raccontato. Se andiamo a vedere quello che vi hanno detto su Dio, Dio risulta non così accessibile. e Dio allora non contiene informazioni sulla vostra anima grandiosa che è stata creata ricolma di un sistema di aiuto. La conoscenza che avete ricevuto dalle religioni principali su Dio non vi parla dell'entourage che ciascuno di voi ha davvero, che è lì per guardarvi. Molte volte con le mani tese verso di voi, se scegliete di prenderle. Moltissime domande sono arrivate a questo programma che riguardano il fatto dell'essere nel cerchio del dodici, percependo e sapendo di essere guariti. Eppure dopo, quando è finito, bisogna ritornare a quella realtà in cui non siete guariti e dovete lottare per mantenere quelle informazioni, per percepire quella multidimensionalità del cerchio del dodici, dovete ritornare a quella realtà e non è molto bello. La risposta, cari miei, è che non potete accenderlo e spegnerlo. c'è una meravigliosa guarigione che è per voi, per voi. In altre parole, è lì, è pronta, su uno scaffale con il vostro nome sopra e dice, sii guarito. La prendete da quello scaffale mentre siete nel cerchio del dodici e poi lo rimettete a posto sullo scaffale quando ve ne andate. E quello che voglio dirvi è che per voi c'è molto di più qui. E quel molto di più è la capacità per voi di decidere, di credere e di prendere atto del fatto che quando lasciate il cerchio del dodici, l'entourage rimane con voi. Qualcuno dirà, sto provando a farlo. Molti vi diranno, smettila di provarci. E invece, fai appello allo spirito e dici, caro spirito, ho difficoltà con questo. Fa che l'entourage rimanga con me e dammi un segno che sia qui. Fammi capire e percepire che è sempre con me. Così, quando sono nel cerchio del dodici, capisco che non è diverso da quando sono a casa mia, oppure da quando sto dormendo, perché è sempre lì con me. E molti dubitano che questo sia reale. Dopotutto, quanti di voi hanno imparato al catechismo o in qualunque altro luogo, persino nelle sale da meditazione? A quanti di voi è stato insegnato che avete angeli e guide con voi tutto il tempo? C'è ancora questo concetto tridimensionale che voi dobbiate fare qualcosa per potervi guadagnare la grazia di Dio nella vostra vita. Vi faccio una domanda. Se avete dei genitori che vi amano, davvero, e percepite il loro amore, se siete fortunati ad averli, vi domando questo. Dovete bussare ad ogni porta per avere il loro amore? Dovete salire delle scale o fare delle attività per poter ottenere la loro attenzione? La risposta è no. Tutto quello che dovete fare è mostrarvi, e allora potrete vedere il loro amore. Spero che qualcuno di voi abbia avuto genitori così, perché ce ne sono lì fuori, tanti. Qual è la differenza tra l'amore di un genitore per il figlio e l'amore di Dio per voi? L'amore di Dio per voi è cento, duecento, diecimila volte più grande. Ma è lo stesso amore compassionevole, ed è nello stesso modo. Potreste dire, caro spirito, prendi la mia mano, e così facendo state dando il permesso allo spirito di fare tutte queste cose. State permettendo a Dio di far parte della vostra vita, in modo personale, invece di quello che vi è stato detto. Chi ha difficoltà a mantenere la sensazione del cerchio del dodici, è perché c'è un costrutto tridimensionale con cui siete stati istruiti, che vi dice che voi non siete magnifici, e che non ci sono angeli insieme a voi. Invece ci sono. Non solo questo. Sono sempre lì, e non dovete neanche chiamarli. Vi faccio una premessa, che ho già fatto prima, molte volte. La maggior parte dell'umanità arriva su questo pianeta, e insieme a loro arriva tutto l'aiuto angelico di cui potrebbero mai aver bisogno. È tutto lì. Quando gli esseri umani sono piccoli, bebè, bambini piccolissimi, e poi crescono, fino ai 4-5 anni, a volte sono molto consapevoli di questo. Hanno degli amici intimi, e danno anche loro dei nomi. Questi amici, a volte li proteggono dalla paura del buio, dal mostro dentro l'armadio, e queste cose i bambini le sanno. E sono reali. E poi, quando crescono, spariscono. A volte perché i genitori dicono, no, tesoro, non è così, lo sai che non ci sono. Vengono eliminati dai bambini. Alcuni bambini ne sanno di più, e se li tengono per sé, e quando i genitori non guardano, continuano a parlare con i loro amici. Ma in generale, il punto è questo. Loro vengono con voi. Non dovete chiamarli. Quindi, proprio ora, dove vi trovate, e nel cerchio del 12 dopo, vi incoraggio a vedere, a modo vostro, che loro sono con voi adesso. Ma chi sono? Non importa. Non importa. Capite che sono assegnati a voi come aiutanti multidimensionali, che sono angeli, sono bellissimi, vi amano, e che sono lì per aiutarvi, con le paure, con gli atteggiamenti, per riscrivere chi siete. Sono lì per le vostre sincronicità. E questa è la cosa più grande che possa dirvi. Sono lì per impedirvi di cadere nelle bozzanghere della vita. ma sono sempre stati lì. Vorrei ripetere questa canalizzazione ancora e ancora, perché voglio che vi sentiate ricolmi di bellezza, comprensione, e percepiate la pace che arriva con questo, perché non dovete sforzarvi. tutto quello che dovete fare è rilasciare il programma che dice che dovete sforzarvi. Di nuovo, per tutti voi che vi sentite in un modo nel cerchio del 12 e poi quando ne uscite vi sentite in un altro modo, questo è per voi. Quando andate via dal cerchio del 12 e avete percepito energia di guarigione, fermatevi lì e dite grazie Spirito e grazie Guide per essere con me, perché io ne ho bisogno. Rimanete con me, venite con me, state con me. Affermatelo ogni giorno, ogni mattina, vi alzate e dite a voi stessi grazie Guide e Angeli per essere con me oggi. Continuate la guarigione che so di meritare. Potreste anche dire è in coda per me ed è lì. E iniziate ad abituarvi a questo, cari miei. C'è di più qui di quello che pensate ed è qui per via dell'amore che lo Spirito ha per voi, specialmente ora in questi tempi difficili. Rivendicatelo, è vostro. Praticatelo e cambiate la vostra vita. Io sono Kryon, innamorato dell'umanità. E così è.